La Regione è stata diligente e io conosco e rispondo della mia legislatura. Sono pronto a ricostruire passo dopo passo, ruolo dopo ruolo. Per quanto riguarda i familiari, io fino ad oggi mi sono tenuto distinto e distante perché conosco e comprendo le reazioni, a volte incivili, pienamente comprese da me. Ma siccome anch'io ho vissuto dolore per ragioni della decisione pubblica in questi anni, ho voluto evitare che si incontrassero due dolori con due possibili irrazionalità fino ad oggi. Rispetto a quel dolore due condotte ci vogliono. Un processo che accerti le responsabilità facendo emergere la verità e poi delle norme capaci di riempire il vuoto normativo che oggi noi stiamo patendo rispetto ai familiari delle vittime e rispetto anche a coloro i quali, lavorando lì, non vengono riconosciuti portatori di diritto, per esempio dall'Inail. Quando la condizione di difficoltà diventa eccezionalità e diventa pericolo e diventa crisi, scattano i ruoli di altri livelli istituzionali per norma nazionale. Però voglio concorrere anche su questo, a precisare se quei 20 milioni di tonnellate di neve potevano essere gestiti diversamente. Io qui, in questa conferenza stampa, adesso rivelo la confidenza di uno dei pochi che ci capisce in tema di reazione davanti ai disastri ambientali. Il generale Sergio Santamaria che mi disse si tratta di una vera e propria guerra per la quantità e la qualità della neve e per la pervasività della neve e per la pervasività delle situazioni di pericolo. Parliamo di questo se vogliamo fare approfondimento tecnico e all'insegna della verità.